Se tutti conoscono Lovecraft per aver creato un pantheon di divinità aliene che cercano di arrivare, o meglio di tornare sulla Terra per dominarla e asservire l'uomo ed eliminarlo, lavoro fatto da Lovecraft con i miti di Cthulhu e tutto il suo ciclo legato al Necronomico, non bisogna però dimenticare che una delle attività letterarie del solitario di Providence è stato riutilizzare tutto il materiale proveniente dalla letteratura orrorifica americana, principalmente quella derivante da Edgar Allan Poe, uno dei suoi maestri indiscussi che lui stesso riconosceva come tali. Uno di questi topos della letteratura gotica orrorifica è quello della casa stregata che è vittima di maledizioni e questo rientra all'interno di tutta una serie di racconti di Lovecraft, soprattutto quelli riguardanti anche la casa delle streghe, ma c'è un racconto in particolare che affronta la maledizione della casa unendola addirittura al paganesimo celtico e alla mitologia classica ed è il racconto I Ratti nei Muri, dove Lovecraft inserisce anche il tema dell'innominabile via sotterranea e del retaggio familiare, un altro dei suoi classici, che porta Lovecraft a immaginare tutta una serie di protagonisti che hanno alle spalle una storia familiare di nobiltà e pazzia, della quale lui stesso si sentiva in qualche modo parte e quindi nei Ratti dei Muri Lovecraft da una parte riprende la tradizione che viene da Edgar Allan Poe, dal crollo della casa Asher e soprattutto da William Hope Oxon, autore della Casa sull'abisso, un altro capolavoro che raccomando a tutti di leggere, mentre dall'altra parte riprende l'idea del retaggio familiare, dell'eredità legata alla casa. Il protagonista di questo racconto I Ratti nei Muri, infatti, è un americano di origine inglese, discendente della famiglia Delapore, che si è trasferito dal Massachusetts a Ian Priory, l'antica tenuta inglese della sua famiglia, che il protagonista della vicenda ha ottenuto in eredità attraverso un misterioso documento, ma che è andato perduto da suo nonno in un incendio. Questa casa è stata di recente ristrutturata e tutto questo rappresenta perfettamente anche le stesse tendenze che aveva Lovecraft a considerarsi un nobile vittoriano inglese, un'idea che gli aveva inculcato la sua famiglia e che a lui piaceva molto. In mezzo alla barbarie del mondo moderno, a una esistenza sciatta di un'America che non aveva tradizioni, Lovecraft amava considerarsi come un uomo del settecento inglese. Ma allo stesso tempo tutto questo non viene da lui utilizzato come apologia personale. Anzi, Lovecraft è talmente grande dall'unire queste sue passioni, queste sue convinzioni anche alla distruzione dello stesso protagonista e alla critica di questo modo di comportarsi. Infatti intorno alla proprietà circolano tutta una serie di voci, di leggende, prima fra tutte quelle di un misterioso avo che ha sterminato tutta la famiglia prima di trasferirsi negli Stati Uniti. E questo passato di leggende misteriose continua a rivivere nella casa del presente dal momento che il protagonista, una volta che si è trasferito lì, continua a sentire dei minacciosi rumori di topi nei muri, da cui il titolo del racconto. Ed è inquietato da strani incubi, tra cui quello di un orripilante demone porcaro dalla barba bianca, che conduce con una pertica un branco di bestie flaccide e pallide come funghi, per essere divorati da un'orda di ratti. E dunque decide di partire alla perlustrazione delle fondamenta della casa, accompagnato da una serie di studiosi e scienziati, oltre al suo gatto preferito, chiamato Niggerman. Dunque il nostro si avventura nei sotterranei della casa, dove scopre l'esistenza di una caverna, dove è presente un altare dedicato ad Attis, lo sposo e un uco della dea Cibele, la Magna Mater, con tutto quello che ne consegue. Crudeli miti di menomazione, i resti di una comunità involute e deforme, e il cannibalismo. Nell'immaginario lovecraftiano, Attis si trasforma nel dio Nyarlathotep, una delle divinità del pantheon lovecraftiano che conosciamo dai miti di Cthulhu. Nyarlathotep è il caos strisciante e la sua passione è condurre l'uomo alla follia attraverso le varie epoche storiche. E tutto questo trova un corrispettivo perfetto nella stratificazione archeologica nei sotterranei della casa, dove si trovano edifici appartenenti all'età del bronzo, all'epoca romana, all'epoca sassone e all'epoca inglese. Storia, mitologia e archeologia sono un unicum oscuro dal quale bisognerebbe tenersi ben lontani per evitare pericolosissime degenerazioni. Come sempre in Lovecraft la scoperta provoca follia e allucinazione. L'orrore viene proprio da questa scoperta, tanto che lo stesso protagonista a un certo punto uccide uno dei suoi compagni, forse per divorarlo, e poi proclama la sua innocenza accusando delle sue azioni i ratti nei muri. Sono loro che continuano a tormentarlo e gli fanno presente quello che ha fatto, gli fanno presente il suo retaggio e gli fanno presente la follia e l'orrore dalla quale l'uomo non può mai liberarsi.